Ma devi tenere Abba da Ragnarok. Qui ci penso io. Ma se potessi... Prendi Atreus e la maschera e non voltarti indietro. Mio figlio si fida di te. Perciò mi fido anch'io. Sto a portare da lei! Papà, fermati! Ne ho abbastanza di te e di tuo figlio. Basta con i giochetti del cazzo! E stavolta... Ho il permesso di ucciderti. Non siamo costretti a farlo. Oh sì! È ciò che siamo! Non basterà! Che la sace! E tu? Tutto qui? Tor per una volta. Pensa da solo. La tua paretia è a pezzi. Basta! Non fingere di conoscermi. Non stacchi mia figlia! No! Io non... Oggi fare questo a casa mia! Alla mia famiglia! No! 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 Oggi uno di noi deve morire! Sicuramente non! Tor! Bruce non vorrebbe mai... Non devi nemmeno usare nominarla! Andava tutto bene prima dell'arrivo di Loki! Mi ha quasi convinto! Mi ha quasi convinto! Mi ha illuso che le cose potessero cambiare! Tor! Tor! Ascoltami! Non voglio darti ascolto! Tor! Non voglio darti ascolto! Dai! Oddio non ho! Chiudi quella foglia! Forza! Chiudi quella foglia! No! che cazzo stai aspettando tua figlia mio figlio la considera un'amica se solo provi a farle del male non lo farò tu non sai che cosa ho fatto certo ma che cosa farai adesso noi non cambiamo noi siamo distruttori non più non più per il bene dei nostri figli noi dobbiamo essere migliori perché non è morto? stai parlando? e chi ti ha detto di farlo? non devi parlare! non devi pensare! io penso tu uccidi! è un concetto semplice cazzo! Sif aveva ragione sul tuo conto ero io che non volevo vedere che succede? non sei più in te? io sono tuo padre! prendi il martello e uccidi! chi ti dico di uccidere? no! no! non volevo farlo! io non non lo volevo fare! no! trood è stata tutta colpa loro loro hanno fatto questo a noi alla nostra famiglia no! no! no!